Dopo l'attentato di Parigi cresce l'allarme terrorismo in Europa e anche in Italia. Proprio in queste ore a Brescia sono stati arrestati due presunti jihadisti, sospettati di essere i capi di una cellula con forti legami sul territorio. Le indagini hanno portato all'emissione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini di origine pakistana di 20 e 22 anni, accusati di aver diffuso sul web contenuti estremisti con finalità di proselitismo, riconducibili alle organizzazioni terroristiche della jihad islamica palestinese, dello Stato islamico e di Al-Qaeda. In tutta Italia sono state rafforzate le misure di sicurezza e l'attenzione resta alta, come ha confermato il ministro degli interni Matteo Piantedosi. Già ad ottobre era stato elevato il livello di allerta sui potenziali obiettivi 28.000 da nord a sud su tutto il territorio nazionale, un'attenzione particolare rivolta ai siti sensibili della comunità ebraica e alle stazioni ferroviarie delle grandi città, dove è stato incrementato il numero di soldati dell'esercito schierati. In vista delle feste sorvegliati speciali soprattutto i mercatini di Natale, presi d'assalto da migliaia di turisti. La preoccupazione maggiore riguarda i lupi solitari, cioè soggetti che si radicalizzano e decidono di agire in autonomia senza essere legati a cellule organizzate. Azioni difficilissime da monitorare, per questo vengono fatti controlli speciali sul web, nelle carceri e alle frontiere. Grazie!